E' stata inaugurata nella sede di Milano di Sace, a due passi dal Duomo, la nuova terrazza del Made in Italy, uno spazio di networking e hub di incontro e confronto a disposizione delle imprese italiane. Abbiamo inaugurato nella nostra splendida location di Milano, al decimo piano, la terrazza del Made in Italy, all'ambizione di diventare un hub di incontro per favorire il networking delle nostre piccole imprese e promuovere il Made in Italy nel mondo, quindi è aperta a tutte le imprese che già sono internazionalizzate o che hanno voglia di internazionalizzarsi. L'abbiamo aperta dal 16 al 19, approfittando del Salone del Mobile e del Fuorisalone, ma è un hub che resterà aperto per futuri incontri per tutto il 2024. Parlando di futuro, quali sono gli obiettivi di Sace per il 2024, 2025 o anche più avanti? Abbiamo chiuso il 2023 con più di 55 miliardi di garanzie e a valere su 50.000 imprese, di cui 45.000 PMI. L'ambizione è quella di saltare quest'anno sulle PMI ed arrivare a 55.000 PMI e quindi di crescere nelle garanzie, di dare supporto per il rilancio dell'economia delle piccole e medie imprese in un'ottica di transizione digitale e in sostenibilità, quindi di impatto green e l'ambizione è di accompagnare le imprese non solo con i prodotti finanziari assicurativi, non solo con la parte di formazione ed education che da molti anni portiamo avanti, ma anche con servizi di accompagnamento per simulare il networking. Un esempio è questa terrazza.